C'è chi ha? Ieri sera ho imparato. Cosa stavamo facendo? Ho imparato. Stavo io con degli amici, stavamo lavorando. Come trova questa nuova squadra? Io ho trovato delle belle gente, quindi speriamo che faremo tutti bene. Da cosa si deve partire? Partiamo da quello che c'è, cioè da una situazione difficile ma che comunque riusciremo ad affrontare. Grazie a tutti. 12 è partita l'era Draghi con il giuramento dei suoi 23 ministri, di cui 15 uomini e 8 donne. Noi stamane abbiamo seguito appunto questo evento con l'uscita dal Salone delle Feste del Quirinale, quindi dopo il giuramento dei ministri e in particolare per quel che riguarda la nostra testata del ministro dell'istruzione Bianchi, il quale sappiamo essere già rettore dell'Università di Ferrara e un noto economista. Saprà dare il giusto piglio e cambiamento di cui la scuola ha bisogno? Lo vedremo. Intanto adesso passaggio della campana tra Conte e Draghi e poi primo CDM. Grazie a tutti.